Il piano parcheggi estivo di Pescara è in realtà, se ne è parlato questa mattina in conferenza stampa, assessore Mascia, quali le novità? La prima novità è che partiremo dalla prossima settimana, in anticipo rispetto agli altri anni, perché l'auspicio per tutti e di tutti è che sia un'estate che si avvicini alla normalità e tra l'altro con una grande novità che Pescara per la prima volta nella sua storia è stata insignita del titolo di bandiera blu e quindi una certificazione di qualità straordinaria. 1.800 posti auto distribuiti tra nord e sud della città, oltre 300 nella zona Exenaip, 500 nella zona sud di Pescara dal lungomare Cristoforo Colombo fino a via Barbella e poi a partire dal 19 di giugno quest'anno in anticipo mille posti auto sulla strada Parco, ovviamente il sabato e la domenica, mentre nelle altre zone l'offerta sarà quotidiana. Ci saranno anche dei posti per le bici lungo la riviera ma non sul marciapiede? Sì, il sindaco ha lanciato un appello che poi è stato interpretato in vari modi ma è un appello di buon senso, di buona volontà che è quella di rendere sempre più bella la nostra città, di rispettare il decoro urbano e quindi di rendere compatibile la presenza delle biciclette auspicatissima perché noi vogliamo incentivare in tutti i modi la mobilità sostenibile e la mobilità alternativa renderla compatibile anche con la bellezza della nostra riviera che deve essere soprattutto utilizzata dai pedoni. Però questo assolutamente non esclude la presenza massiccia di biciclette, stiamo trovando le migliori soluzioni estetiche per avere gli stalli bicicletta che vengono garantiti ogni anno ma anche nel rispetto della piena fruibilità della nostra riviera.